con grande emozione. Il testo elaborato dai dipendenti europei sarà consegnato da funzionari in pensione. Gli autori della petizione infatti sono voluti restare anonimi. Così come anonimo è voluto restare uno dei firmatari che ha accettato di commentare ai nostri microfoni. Speriamo sinceramente che ci sarà una reazione da parte delle autorità europee e delle istituzioni, in particolare da parte del presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, che al di là del comitato etico si impegni a riformare il codice di condotta dei commissari e del presidente della Commissione europea, che dei mezzi siano messi a disposizione per poter indagare eventualmente in modo più serio su questi diversi casi e infine che sia evocata la possibilità di andare alla Corte europea di giustizia. La settimana scorsa gli eurodeputati hanno chiesto misure rafforzate nei confronti di Barroso e di una sua ex commissaria, l'olandese Nelly Cruz, di cui si è scoperto che fino al 2009 è stata direttrice di una società offshore. ... ... Grazie mille.